Non so dove si va! Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly, o e che Carly, e benvenuti in questo nuovissimo video di Poppy Playtime. Un gioco che, come avevo detto nel video della volta scorsa, che chi non l'ha visto andatevelo subito a vedere, è un gioco che mi avete consigliato in tantissimi e a me sta piacendo tantissimo e non vedo l'ora di continuarlo oggi insieme a voi. La volta scorsa ci siamo fermati in un punto cieco perché non riuscivo ad andare avanti e quindi ho dovuto sospendere il gioco. Allora, ricordo che dovevamo prendere delle gallerie, tipo, per scappare al mostro Huggy Wuggy, che in realtà è carino, se non fosse che è terrificante quando ti viene addosso e che esce da questo muro, tipo così! Oddio! Ok, salto qua dentro, non mi ricordo come dovevamo continuarlo. Salto qua, vado qua giù. Ah! Oddio! Mi sono incastrata! Mi sono incastrata, mi sono incastrata! Qua! Ok! Non mi inseguire, ti prego, ti prego! Oh, ragazzi, però io potrei anche provare ad ammazzarlo con le mani, eh! Ci posso provare! Oddio, dove si va qua? Ah! Io ti ammazzo! Cos'è sta scritta? Che lingue è? Hanno pigiato pulsanti a gas! No, raga! Quindi non ci posso fare nulla con le mani, non lo posso ammazzare! Cavolo! E poi chissà come... Quanto dura quel tunnel lì? Ok! Ok! Ce la devo fare! Allora, scappo! Sinistra! Destra! E nella parte dove c'è scritto don't e poi non mi ricordo più! Ah! Ok! Ok, ok! Calma, calma il sangue freddo! Calma il sangue freddo! Ce la posso fare, ce la posso fare! Allora, dritto per di qua! Si scende! Ok! Let's go! Let's go! Qua a sinistra! Destra! Dritto! Lui esce da là, quindi io vado di qua! Ok! Sinistra! Sinistra ancora! Di qua si scende! Ok, continua per di qua! Ok! Poi dopo, poi dopo! Ok! Questa è una strada nuova! Non so dove si va! Non so dove si va arrivati al punto! Cavolo! Ok! 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 Ce la possiamo fare! Ce la possiamo fare! Allora! Scendo per lì! Poi vado indietro da lì! Ok! E poi arrivate a quel punto! Ok! Sapete cosa? Abbasso il volume! Così non mi spavento troppo! Riesco a pensare lucidamente! Ok! Let's go! Let's go! Ok! Allora! Dritto per di qua! Poi sinistra! Poi di nuovo a sinistra! Oh ragazzi! Questa è la volta buona! Me lo sento! A destra! Destra per di qua! Poi? Dopo essere andati per di qua! Qua! Perfetto! Io vado dritto per di qua! Ok! Già qualcosa! Qua! Ok! Devo pensare la lucida a me! Oh! Ok! Da qua! Non l'avevo vista questa stradina! Perfetto! Ok! Questa è la nuova strada! È la via giusta! E adesso? Qua c'è una luce! Devo scendere qua! Esatto! Poi continuo per di qua! Qua! Ah! Dai dai! Apriti! Apriti! Arriva! Ok! Qua! 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 Non pensavo che si aprisse davvero quella porta! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Forse ce l'abbiamo fatta! Ragazzi! Oh! Siamo arrivati alla fine! Ok! Qua! Prendi! Ah! Oddio è caduto! Ok! Ok! Bene! Benissimo! Perfetto! Uh! E adesso? Ragazzi! Ma che cos'è questo posto? Eh! Ma c'è del sangue lì! Non mi funziona più la... Ah! Ok! Sì! Adesso funziona! Lì c'è quel fiore che c'era all'inizio del gioco che diceva che dovevamo cercare questo fiore dall'inizio del gioco! Credo fosse una sorta di obiettivo principale! Non c'è altro che devo vedere a parte il fiore! Oh! Qua forse c'è una cassetta! Ok! Che... Non posso inserirla perché non c'è... Non c'è nulla! Ok! Forse è qua dispersa da qualche parte! Che sono questi giochi orrendi appesi? Ah! Eccola! Ok! Andiamo a vedere la cassetta! Cosa ci dice? Non ho capito niente e non riesco a capire cosa sia questo ramo qua! Non sto ascoltando e non riesco neanche a sentire bene la tv quello che dice! Oh! L'ho spenta? Chiedo scusa! Non volevo! È che non volevo entrare lì subito! Mi spaventa a morte! Ok! Ragazzi! Coraggio! 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 È solo un fiorellino! Con tanti orsetti impiccati! Terrificanti! No! Fermo! Fermo! Corri! Pericolo! Girati! Torno indietro! Corri! E noi ci entriamo comunque! Sapete qual è la cosa più terrificante in questo frame? La carta da parati! È terribile! Sembra quella delle nonne! È terrificante! Siamo finiti a casa di una nonna! Adesso di là c'è la nonna in cucina che fa il ragù! È terrificante! Cosa c'è lì? Che c'è tutta una stanza rossa! Una casa per le bambole! Bella! Tipo quella delle... Come si chiama? The little pet shop! Ok! Ah! Posso rubare un cuscino! È qua! Non voglio vedere! Oh mio Dio! Sei tu! Ma sei... Bruttissima! Oddio! Devo aprirla? È necessario? No! Non sono stata io! Non volevo aprirla! Ok! Capitolo 1 è finito! Allora adesso ci dovrebbe essere il capitolo 2! Giusto? Giusto raga! Dopo il capitolo 1 ci dovrebbe essere il capitolo 2! No ragazzi! Abbiamo finito il gioco! Ragazzi abbiamo finito il gioco! Finisce così! Non ci credo! Io ero convinta che dopo il capitolo 1 ci fosse il capitolo 2 che andasse avanti la storia a capitoli! Ma tutto in un solo gioco! Abbiamo finito così! Cioè allora la volta scorsa bastava solamente che io provassi a fare quel livello super difficile per finirlo! Cioè non ci voleva nulla! No abbiamo finito così! E chissà quando esce il capitolo 2 allora! Io proprio me rillusa di un'altra cosa! Ragazzi allora direi che purtroppo finisce così! Io pensavo andasse avanti che oggi potessimo fare il capitolo 2! Evidentemente ci sarà ma in un futuro perché non può finire con una suspense del genere! Da Carly è tutto! E noi ci vediamo prossimamente con un altro video! Ciao! 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 Ciao!